Stiamo andando verso il passaggio da pandemia ad endemia, ad affermarlo il sottosegretario alla salute Pierpaolo Sileri. Per chiarire la trasformazione in endemia sarà una notizia positiva per tutta l'Italia. Questo perché è una malattia che è considerata endemica quando la gente responsabile è stabilmente presente e circola nella popolazione, manifestandosi con un numero di casi più o meno elevato ma uniforme e distribuito nel tempo. Sileri ha spiegato che chi è vaccinato non avrà grossi danni nella nuova fase. A confermare le parole del sottosegretario anche la professoressa Maria Triassi, presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia della Federico II di Napoli. Il virus sta facendo il suo lavoro, ossia sta cercando di compatibilizzarsi con l'uomo, insomma, come succede in tutte le pandemie. Ecco perché il viceministro, il sottosegretario Sileri in questo ha ragione nel momento in cui dice che la pandemia sta diventando endemia, nel senso che assisteremo a un quadro di maggiore coinvolgimento delle persone, anche perché si è ritornati alla vita normale, si è ritornati al lavoro, si è ritornati a una quasi normalità, eccetera, e quindi le occasioni di diffusione sono maggiori. Intanto ieri nuovo decreto legge varato dal governo in materia di contenimento della pandemia, un decreto che a gennaio potrebbe essere seguito da possibili altre misure. Non passa però per il momento il fronte di chi chiedeva di estendere l'obbligo del Super Green Pass anche a tutte le categorie dei lavoratori, nonostante la sponda delle regioni. Quarantena azzerata e vaccinati da meno di quattro mesi a quelli con dose booster, estensione del Super Green Pass invece per quanto riguarda la salita su treni, bus, metro e tutti gli altri mezzi di trasporto per entrare in alberghi, andare a fiere, in pianti sportivi, sciistici e tanti altri ancora. Utilizzo della FFP2 all'interno dei luoghi chiusi e all'aperto, con prezzi però delle mascherine calmierati. Sì, ci sono persone non convinte della vaccinazione. Io credo che con l'arrivo del Novavax, cioè del nuovo vaccino antigenico, cioè fatto col metodo tradizionale, alcune paure dei contrari al vaccino dovrebbero essere fugate, perché si tratta di vaccini con metodi tradizionali, quindi con la gente attenuato e quindi fabbricati come attualmente è fabbricato il vaccino, i vaccini che facciamo normalmente, i vaccini obbligatori, gran parte di essi. Quindi questo dovrebbe tranquillizzare coloro che hanno paura di vaccini di nuova generazione. Sulle novità del governo tuona il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, che definisce il nuovo decreto del tutto insufficiente. Intanto negli stadi si torna al 50% e il calcio Napoli ha sospeso per ora la vendita dei biglietti per la gara di Europa League contro il Barcellona e per la gara di campionato e Coppa Italia rispettivamente contro Sampdoria e Fiorentina.